Musica Ciao a tutti e bentornati nel Tremone del Radano Anche oggi un video di Wargamer Dragon con la campagna rossa Direi di farci il settore navale Anche perchè non possiamo sbarcare le nostre unità Quindi vedete voi Facciamolo subito 6 Otsuyuki 12 Sansuri Dele Tombaie Noi abbiamo 8 Yak 141 Che comunque non c'è facciamo assolutamente nulla Delle Sovremeni Ne abbiamo 4 16 Nanuska 4 Muna Elicotterine del Recon Nanjin Scusate Il Fresco Finalmente è arrivato un po' di fresco Deve fare avvia battaglia Attenzione scappano Va bene E allora sti cazzi Noi sbarchiamo Noi sbarchiamo E Attacchiamo Come se non ci fosse un domani Lo so Queste unità qua Le lascio lì per il momento Perché tanto stanno bene lì Ma andiamo Andiamo Le lascio lì perchè Magari Vorrò fare un assolto Da qualche parte E per ora stanno bene lì Finchè Non mi avrei qualche idea Malsana in mente E 10 punti ci riteniamo Allora di fare Obama Andiamo a farci Obama O lo sbarco ragazzi Dai sbarchiamo Facciamoci lo sbarco Facciamo un massuro Allora vediamo poi cos'hanno Hanno E ok Noi arriviamo da qua Ok Noi abbiamo 48 peota Strede che comunque Non ce ne facciamo Una ceppa Dei carretti Che ce ne possiamo fare qualcosa Le conizioni buone Non male Questi ce ne possiamo fare qualcosa Nel navale abbiamo anche Questi carretti E i Naji Che comunque Dobbiamo combustare A meno questo Per forza Va bene Avviamo la battaglia ragazzi 1200 punti Se mi fa pensarsi Io per un'altra Naji Mi piacciono Poi Vediamo Devi prendere questi carretti Però Scusami Ah Ok Senti Non è per sfiducia Ma Andiamo Andiamo avanti Poi Ah no ragazzi Facciamo un assolto Sì Sì E poi Grazie. Allora per un potto di fanteria lo prendo. Bene, vi battaglia. No, posso dare a dire di ufmoji con questo. Smell, assoluto. I nostri carretti ragazzi, guardate lo sbarco. I nostri carretti ragazzi, guardate lo sbarco. I mi attacca. Siamo arrivati nel bosco, tante le navi facciamo avvicinare. Siamo arrivati nel bosco. 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 Siamo arrivati nel bosco.